Salve a tutti. A due giorni dall'introduzione dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico cominciano a sorgere i primi dubbi pratici su come debba essere svolta la procedura di accertamento ed eventualmente di applicazione delle sanzioni. In particolare il Ministero nella circolare il 14 dicembre scorso ha evidenziato che i dirigenti scolastici dovranno effettuare la verifica circa la posizione dei singoli dipendenti rispetto all'obbligo vaccinale accedendo ad una piattaforma quindi ad un'applicazione informatica appositamente predisposta. Nel momento in cui dalla verifica dovesse emergere una posizione di non regolarità del dipendente rispetto all'obbligo ecco che secondo le indicazioni del DL 172 il dirigente o un suo delegato dovrà notificare un avviso, un invito alla regolarizzazione rispetto all'obbligo. Ci si è chiesti però in quale forma va effettuato questo invito. In molti casi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte dei nostri lettori circa la diffusione di circolari generalizzate da parte dei dirigenti scolastici con l'invito a regolarizzarsi rispetto all'obbligo vaccinale, in altri casi mail sempre generalizzate inviate a tutto il personale della scuola con l'invito alla regolarizzazione. In alcuni casi gli inviti sono stati sì individualizzati cioè destinati al singolo soggetto che risultava non in regola rispetto all'obbligo però attraverso l'utilizzo della mail ordinaria. Dobbiamo vedere però se queste forme sono utili e sono idonee per le finalità previste dal DL 172. In realtà questo invito alla regolarizzazione per via della finalità dello stesso e delle conseguenze che ne derivano, nel senso che dalla notifica dell'avviso partono i cinque giorni per mettersi in regola rispetto all'obbligo vaccinale, ossia comunicare, dimostrare l'avvenuta vaccinazione, dimostrare l'avvenuta prenotazione del vaccino o dimostrare di essere stati esonerati dalla vaccinazione. Ecco che questo invito deve rispondere a delle caratteristiche ben precise. Intanto deve trattarsi di un invito individualizzato, cioè rivolto al singolo soggetto che non risulta in regola rispetto alla verifica effettuata attraverso l'applicazione informatica e inoltre, cosa anche importante, deve trattarsi di un invito che giunga effettivamente al destinatario nella conoscenza quantomeno legale del destinatario. Quindi dovendo rispondere a questi due requisiti riteniamo che non possa ritenersi valido l'invito effettuato mediante circolari generalizzate e inviate a tutti o mail ordinarie generalizzate e inviate a tutto il personale, dovendo necessariamente l'invito essere formulato o mediante una raccomandata a mani con relativa firma del registro di consegna da parte del destinatario, oppure a mezzo posta con una raccomandata con avviso di ricevimento, oppure un invito sempre individualizzato inviato a mezzo posta elettronica certificata perché quest'ultima garantisce la ricezione e quindi la conoscenza legale del destinatario della mail. Quindi se l'invito non dovesse rispondere a queste caratteristiche e questi requisiti riteniamo che non possa produrre gli effetti previsti dalla legge e quindi non possa essere idoneo a far decorrere i cinque giorni entro i quali il dipendente debba dimostrare di essersi regolarizzato. Vedremo come andrà nei prossimi giorni rispetto alle procedure che verranno intraprese. Arrivederci a tutti.